Ciao a tutti, eccoci in diretta e oggi voglio fare un video diverso che riguarda comunque la cultura ed è un video sui generi, nel senso che non credo che ce ne siano tanti in giro, almeno qui su YouTube perché sapete che questo canale è completamente gratuito, non ci sono promozioni, non ci sono sponsorizzazioni e nonostante insomma è diventato un canale seguito, io desidero dirvi quali sono i canali che a me piacciono di YouTube in quanto a mio avviso sono canali che ci possono arricchire culturalmente quindi non farò una vera e propria pubblicità ma darò delle indicazioni sulle risorse utili che a mio avviso possono arricchire le nostre conoscenze allora sicuramente e ovviamente dandovi indicazioni su questi canali voglio anche fare delle premesse che spero insomma che questi canali possano apprezzare allora non sarà un ordine di importanza comunque sicuramente un canale interessante è Radio Radio che è un canale di informazione relativo insomma alla cronaca, alla medicina parlano quindi un canale di informazione guardiamolo come una sorta informazione di telegiornale continuo libero in cui spesso insomma si fanno attacchi al sistema quindi a mio avviso dovete essere attenti a discernere insomma le informazioni perché mi è capitato nel corso dei mesi, nel corso degli anni che alcune cose erano proprio fuori luogo e altre giustamente sono questioni interessanti quindi fate ovviamente attenzione a quello che vedete sicuramente stiamo sulla stessa più o meno categoria c'è Bio Blu il quale ovviamente questi canali sono almeno questi finora sono famosi quindi credo che siano anche canali che si possano trovare su Facebook su Twitter, su Instagram o altre piattaforme comunque è sempre un canale di informazione dove potete trovare notizie che di solito non vengono date sicuramente sempre della stessa categoria è fanpage fanpage è scritto sicuramente anche questo canale ha un sito sono canali dove ci sono molti iscritti e molte visualizzazioni e quindi avete lo metto virgolettato un'informazione libera che comunque per farsi strada spesso parla degli scandali quindi ovviamente non sono a mio avviso canali rilassanti per quanto riguarda la psicologia un canale che esiste da anni è il Luca Mazzucchelli che nel tempo mi correggerete lui voi o mi correggerà lui se sbaglio è diventato essenzialmente oltre ad essere uno psicologo è diventato anche una persona che fa interviste a figure rilevanti a figure ad esempio Guidalberto Bormolini Paolo Nardone insomma è un canale che può essere a mio avviso interessante e un altro canale che a mio avviso è bello insomma che parla più di motori di auto di ingegneria è il canale di Emanuele Sabatino poi sono curioso ditemi se lasciatemi nei commenti ovviamente mi metto una freccia qui sotto e ovviamente ricordatevi di iscrivervi iscrivetevi al canale mettete mi piace e condividete i link il link insomma del canale Emanuele Sabatino è interessante ormai lo seguo da anni devo dire che molti di questi canali cioè li ho cominciati Luca Mazzucchelli Emanuele Sabatino anche BioBlu li ho cominciati a seguire quando non li conosceva quasi nessuno e poi col tempo sono diventati famosi e ah è sicuramente un canale interessante per quanto riguarda quindi qui ci mettiamo ingegneria motori essenzialmente è un meccanico credo che sia un meccanico che poi va anche ad analizzare tanti aspetti insomma delle automobili sicuramente Andrea Galleazzi credo che lo conosciate il quale paradossalmente anche lui si occupa di automobili credo di scope elettriche però secondo me è interessante soprattutto per quanto riguarda le tech smartphone recensioni quindi di smartphone di pc di cioè essenzialmente fa tutto quello fa tantissimi video che riguardano le tecnologie digitali ed è un canale molto che piace molto molto seguito molto a mio avviso bello andiamo sempre all'aspetto psicologico sicuramente è interessante il canale di Carlo Lesma che ovviamente è uno psicologo però fa tantissimi video anche di meditazione guidata fa sicuramente tante live insomma è un canale dove a mio avviso è possibile crescere è possibile comprendere tante cose dal canale di Carlo Lesma ovviamente fa video sul sulla psicologia sulla cercare la felicità sul cercare di stare sereni sul cercare di stare di trovare un equilibrio e ovviamente ogni tanto adesso mentre penso penso parallelamente a più aspetti di Andrea Galeazzi ovviamente è interessante pure che fa recensioni di console di game quindi playstation 5 e tante 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 cose e un canale famosissimo che credo sia in inglese però c'è c'è anche una versione italiana credo è si scrive così TED tutto grande X Talk anzi Talks è un canale dove vengono intervistate tante persone di successo quindi diciamo è una raccolta di pillole di saggezza delle persone di successo ma potremmo quindi i canali che mi piacciono di più virgola potremmo fare una scrivere la top list poi vediamo quanti ne escono e aggiorniamo il il numero perché in effetti sono sono tanti vorrei lasciare quelli che piacciono a me magari essendo un ingegnere tipo vabbè ve lo metto automoto.it ovviamente sono soprattutto analisi di automobili dove insomma vengono presi valori insomma interessanti allora adesso questo è un canale particolare Luca Salvatori che credo sia un motociclista che a mio avviso sa parlare molto bene sa coinvolgere la gente e crea video di qualità premesso io non so quanti di essi o comunque di persone che vi sto citando che lavorano in questi canali sono dei veri e propri youtuber ossia persone che guadagnano tramite solamente o soprattutto tramite internet io credo che queste persone che vi sto nominando sono persone appassionate che fanno sicuramente ecco possiamo dire che se non guadagnano se i loro proventi non sono soprattutto da internet comunque ci arrotondano lo stipendio e chi altro dire perché sono veramente tantissimi i canali a mio avviso degni di nota io non so se voi guardate youtube se lo guardate spesso e se lo guardate in maniera casuale però a mio avviso è importante di alcuni non ve ne parlo perché ce ne sono tanti che ho seguito anche per anni però poi mi hanno deluso e quindi non vorrei che facesse la stessa fine quindi preferisco non non dirvi a mio avviso canali molto interessanti però che non sono che sono un pochettino falsi sapete che in questo mondo c'è anche tanta falsità e magari poi quando ti ritrovi a parlare tu per tu con queste con queste persone magari ti rendi conto che ciò che fanno apparire non è proprio la realtà e guardate per completezza vi cito il dottor Filippo Ongaro voi bastate che scrivete potete scrivere insomma sul motore di ricerca di youtube ma anche su google questi nomi sicuramente vi appariranno tutti i video relativi a questi insomma influencer youtuber creatori di video essenzialmente qui andiamo sicuramente sull'aspetto sempre mentale del corpomente va del benessere corpomente però più relativo al benessere del corpo quindi alle diete cosa mangiare cosa fare come gestire la gestione del tempo la gestione della giornata la insomma è un canale a mio avviso degno di nota quali altri canali non ripeto non sto facendo pubblicità non voglio essere cioè voglio essere coerente con con tutte le persone che si fidano di me che mi seguono quotidianamente e ripeto questo video non è finanziato da i soggetti che sto nominando ovviamente è un video di pura video libero nel quale io condivido vi sto dando insomma dei motivi per utilizzare youtube anche a scopo culturale ma la cultura ovviamente non è solo qualcosa di correlato alla scuola e all'istruzione ma è qualcosa ovviamente di estremamente vasto che tocca tantissimi ambiti sto pensando datemi datemi tempo radio radio ecco Alberto Nasca vi devo dire che è molto interessante non so come ma i youtuber che parlano di moto lui parla anche di automobili non propriamente di formula 1 però di automobili è un diciamo è un personaggio che ama tutto il mondo della corsa quindi moto gp formula 1 rally eccetera eccetera però soprattutto moto ed è secondo me una persona che è capace di fare come youtuber e come creatore di video e come capacità comunicazionali capacità di comunicazione a mio avviso vabbè avete capito comunicazione a mio avviso è veramente in gamba Emanuele Sabatino credo di avervelo detto vediamo sì è il terzo ripeto non in ordine di importanza non voglio far rimanere male nessuno vediamo ve ne dico un altro e poi mi dite voi se questo video vi interessa in ogni caso me ne accorgerò anche dalle visualizzazioni e dagli eventuali commenti è difficile trovare video che insomma siano cioè molti video sono molto selettivi nel senso che parlano proprio di calcio oppure di game oppure di automobili oppure di tennis oppure di politica e insomma è difficile trovare video a 360 gradi però ecco spero che mi venga in mente nel frattempo mentre vi parlo c'è un autore di psico astro con la bomba come faceva a scrivere con la bomba psico quantistica insomma fa seminari ha lavorato parla molto bene ha lavorato anche con super quark comunque credo che basta che scrivo psico quantistica potete scrivere psico quantistica ecco Alberto Lori Alberto Lori ha una cadenza una voce formidabile e insomma io vi consiglio questi video e vi dedico anche questo bel cuore perché veramente siete speciali mi avete sostenuto e io penso di aver contraccambiato mi scrivete commenti bellissimi siete in tanti a supportare questo canale e insomma desideravo per la bellezza insomma delle informazioni multiple delle informazioni che possono venire da tanti video da tante persone desideravo insomma dare il mio contributo per cercare di valorizzare i canali che a mio avviso in un modo o nell'altro contribuiscono a esportare cultura con questo io vi ringrazio un caro saluto da Francesco Samani un caro saluto